Pazienti che sono seduti dentro la sala d'attesa di un centro di igiene mentale. Allora a un certo punto si alza al primo e dice io sono Napoleone, regolatevi. Si alza al secondo e dice sì vabbè Napoleone, io sono Mosè, Dio mi ha dato i tavoli della legge. Si alza al terzo, che cazzo ti ho dato io?